Dobro i geni, buongiorno, mi chiamo Mikhail e vi do il benvenuto nella seconda lezione del mio corso online della lingua russa. Iniziamo! Prima correggiamo i compiti che vi ho assegnato nella lezione precedente. C'erano due compiti, uno di traduzione e l'altro il dettato. Iniziamo dalla traduzione. C'erano sei frasi da tradurre dall'italiano allo russo, eccole qua. La prima frase era la finestra è la, quindi in russo questo è... La seconda era, controllate, chi è? E'emma? No. Кто è? E'emma? No. La tercera è una moneta? No. E'a moneta? No. Poi la quarta. Come sta Anna? Cacanna? Poi la quinta. Chi c'è la? L'acce il gatto? Kto tam? Tam kot? Kto tam? Tam kot? E la sesta, chi è? E' la mamma. Kto eta? Eta mama. Ok, adesso vediamo anche il dettato. Alla fine della lezione vi ho letto delle frasi e dovevate scriverle. Adesso le controlliamo, quindi le frasi erano queste. Eta moca? Cacao tam. Kto eta? Eta Anton? Mama tam. Eta nota. Eta okno? Niet. Traduciamolo anche. Questa è una moca o la moca, la macchinetta caffè. Il cacao è lì. Kie? E Anton? La mamma è la. Questa è una nota o la nota. Questa è una fenestra? No. Poi c'erano anche queste frasi. Eta tema? Niet. Kto eta? Eta Anna. Eta maneta. Kto tam? Tam kot? Traduciamo. Questo è un tema o un argomento? No. Chi è questo? Chi è? E Anna. Questa è una moneta o è una moneta. Chi c'è lì? Lì c'è un gatto. Ok, spero che non abbiate fatto tanti errori. Le soluzioni di questi compiti le pubblico anche nella sezione dei commenti di questo video come un mio primo commento messo in evidenza. Quindi se volete potete controllarle anche lì. Noi intanto adesso andiamo avanti. Continuiamo a prendere delle nuove lettere dal nostro alfabeto e studiarle. Qui ho evidenziato in verde le lettere che abbiamo già imparato nella lezione precedente. E adesso prendiamo un'altra lettera. Questa lettera qua. Questa lettera si chiama I. Ci dà il suono I come la lettera I in italiano. Come vedete la scrittura di queste lettere sia quella maiuscola che minuscola è molto simile alla scrittura della lettera maiuscola N italiana. Però è come se fosse rovesciata. Quindi non confondetele. Questa scrittura qua non esiste. Usiamo invece questa. La lettera I. Adesso vediamo qualche parola che contiene questa lettera I. Per esempio. Comic. Comic. Che vuol dire un comico. Poi. Mina. Mina. Mina da guerra. Ho anche il nome Mina. Però lo dobbiamo scrivere con la M maiuscola ovviamente. Mina. Poi andiamo avanti. Kino. Kino. Che in russo vuol dire cinema. Capite che queste parole qua le prendiamo giusto allo scopo di imparare a leggere e scrivere in cirillico. Non allo scopo comunicativo ovviamente perché a chi serve fin da subito facendo i primi passi con una lingua sapere le parole come comico o mina. No. No. Poi quando abbiamo imparato tutto l'alfabeto ovviamente prendiamo le parole più utili, le sapremo anche scrivere e costruiamo le frasi che ci servono per comunicare nella vita quotidiana. Adesso invece dobbiamo ancora andare avanti con il nostro alfabeto. Quindi Kino, cinema. Poi Nick. Nick. Che vuol dire nickname, lo pseudonimo che di solito usiamo sui siti internet. Nick. Nick. Poi Tonic. Tonic. Che è sostantivo, un tonico, anche bevanda un tonico. Tonic. Poi Nina. Nina, un nome femminile. Nina. Poi Antonio, Antonio, un altro nome italiano maschile Antonio. L'altra volta abbiamo visto il nome Anton che è la versione russa del nome Antonio italiano. Noi invece se volessimo scrivere il nome italiano con caratteri cirillici eccolo qua Antonio, questa nostra I. Poi da sola questa lettera I significa la congiunzione E. Quindi come per esempio nelle frasi, nelle frasi come Eta Anna e Anton. Quindi questi sono Anna e Anton. I è la congiunzione. Oppure Tammoca e cacao. Lì c'è la moca e il cacao. I. Adesso prendiamo un'altra lettera, ma prima vi faccio vedere un esempio del suo uso, invece dopo ve la spiego. Allora, noi avevamo sempre la frase Eta Mama, questa è la mamma. Se volessimo aggiungere alla mamma un secondo genitore, cioè il papà, la frase in russo sarebbe così. Eta Mama e il papà, questi sono la mamma e il papà, quindi papà, papà, ecco, questa è la nostra lettera P, la lettera P che ci dà il suono P, esattamente come la P italiana. Quindi la parola Papa, che tra l'altro significa sia il papa del Vaticano che il papà della famiglia. Quindi la parola Papa si scrive così, Papa, la P russa. Ok. Vediamo qualche altra parola che contiene questa nostra P, per esempio pic, pic, che vuol dire un picco, picco. Poi capitano, capitano, che vuol dire ovviamente il capitano, capitano, ecco la P, la I, capitano. Poi pacà, pacà, questa parola significa ciao, ma solo il ciao di congedo quando si va via. Per esempio alla fine di ogni lezione vi posso dire pacà, pacà, ciao. Vedete ho segnato qui l'accento tonico per farvi capire che questa O si legge come una A. Pacà, pacà. Poi papca, papca, vuol dire cartella, sia quella cartella fisica che sul computer o sullo smartphone. Papca, cartella. Poi pechino, pechino, che è pechino, la capitale. Nella Cina. Quindi la lettera pe. Adesso andiamo avanti e prendiamo una costruzione molto importante per la comunicazione. Allora, l'altra volta abbiamo introdotto la costruzione ktoeta, che vuol dire chi è. Qui sarebbe logico aggiungere anche la domanda che cos'è. Quindi dobbiamo introdurre la parola che significa che o che cosa in russo. Però, per poter farlo, dobbiamo prima imparare un'altra lettera del nostro alfabeto. E la lettera è questa qua. Si chiama c'è, c'è. E ci dà il suono c' come la c' italiana nella parola ciao, per esempio. Infatti, la parola ciao, che è conosciuta in tutto il mondo, in russo si scrive così. Ciao, ciao. Che significa ciao? In modo italiano, diciamo. Non è la parola vera ciao russa. La impariamo più tardi. Abbiamo già imparato ciao di congedo. Paka. Poi vediamo anche quella dell'incontro. Fate attenzione che nella scrittura russa qui noi non scriviamo nessuna i. Perché in italiano noi abbiamo una i per far sì che la lettera c' venga pronunciata come c' e non come k. Se no, senza questa i sarebbe kao. Invece ciao con questa i. Invece nel russo questa nostra lettera c' si pronuncia già come c' non può essere pronunciata mai come k. E quindi non serve ovviamente nessuna i qua. E la scriviamo così. Che, a, o. Ciao. Ciao. Ok, andiamo avanti. Vediamo qualche altra parola contenente questa nostra c' per esempio. Chat. Chat. Che vuol dire la chat. Poi. Cek. Cek. Che vuol dire scontrino o anche assegno. Una parola prestata dall'inglese. Poi. Cimpion. Cimpion. Che vuol dire campione. Cimpion. Poi, rimanendo sempre nel discorso dello sport, abbiamo anche la parola match dell'inglese. Match. Che vuol dire la partita. Match. Poi. Pocita. Pocita. Che vuol dire la posta. Vedete? Quasi come in italiano, solo che la lettera s è sostituita da questa nostra c' Non posta, ma pochita. Pocita. Ed ecco qui siamo arrivati alla parola che ci serviva per creare la domanda che cos'è. Allora, questa parola qua significa che o che cosa o cosa. E come dovrebbe essere letta questa parola? Dovrebbe essere pronunciata c'è. Però nella lingua moderna, secondo la norma corrente, questa c'è, in questa parola qua e in alcune altre parole, la pronunciamo non come c'è, ma come sh di sciopero. Quindi questa parola si legge sto, sto, diciamo che è un'eccezione della sua lettura. Non sto, ma sto, sto, cosa, che, che cosa. Quindi, alla nostra frase ktoeta, che vuol dire che adesso contraponiamo anche la frase stoeta. Che cos'è? E possiamo fare degli esempi ktoeta. Eta Anna. Chi è? È Anna. Oppure, stoeta. Eta chat. Che cos'è? È una chat. E a questo punto vi propongo di tradurre come compito a casa, che correggeremo nella prossima lezione, queste frasi qui dall'italiano al russo. Questo sarà il primo compito. E il secondo compito adesso sarà un dettato. Vi detto delle parole. Questa volta non saranno le frasi, ma le parole. Le scrivete, il dettato lo controlleremo sempre alla prossima lezione. E poi queste frasi da tradurre le pubblico anche nella sezione dei commenti di questo video, come un mio primo commento messo in evidenza. Le pubblico lì, potete prenderle da lì, da tradurre. Le pubblicherò insieme alla soluzione dei compiti della lezione precedente. Adesso scriviamo il nostro dettatino. Sono soltanto otto parole, diciamo, internazionali. Le parole che esistono nel russo, prestate però dalle altre lingue. Ed è molto utile, è importante saperle scrivere in cirillico. E il loro senso, la traduzione, ovviamente è deducibile. Allora, vediamo la prima parola. Scriviamola. Economica. Economica. Che vuol dire economia. Però è stata prestata, come ho detto nella prima lezione, con le lettere vocali originali. Diciamo, viene scritta economica. Però, per la ragione che ho spiegato nella prima lezione, la pronunciamo economica. Economica. Ok? La seconda parola sarà matematica. Matematica. Ovviamente la matematica. 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 La terza parola, contact. Contact. Però l'attenzione non è K, ma co, ovviamente. Contact. Contact. Che è contatto. Contact. Poi, continente. Qui non vi aiuto più. Continente. 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 Che è continente, ovviamente. Poi, impeachment. Impeachment. Il processo politico di impeachment. 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 Poi, etica. Molto facile. Etica. Etica. Poi, panica. Panica. Qui vi aiuto perché in italiano è il panico, però l'ultima lettera è sempre una A, una vera A anche in scrittura. Panica. Le O non ci sono in questa parola, quindi panica. E l'ultima parola sarà la capitale del Giappone, Tokyo. Tokyo. A proposito, questa è una delle poche parole straniere che noi pronunciamo con tutte le O, quando sono scritte le O. È scritto Tokyo e anche in russo viene pronunciato Tokyo e non Tokyo. Anche se qualcuno forse potrebbe dire Tokyo, però la norma corrente è Tokyo. Tokyo, la capitale giapponese. Quindi queste sono le parole da scrivere, poi le correggeremo nella prossima lezione. Fate i compiti, mi raccomando, studiate e ci vediamo presto nella terza lezione. Paca! Allora, se vi è piaciuto questo video e volete che io continui a pubblicarne degli altri e che il mio canale cresca, aiutatemi per favore cliccando mi piace, commentando e condividendo il video. Scrivete nei commenti le vostre eventuali domande e suggerimenti. Iscrivetevi al mio canale e premete il campanellino per non perdere i nuovi video. Grazie e ci vediamo presto! Ciao!